Per la prima giornata del girone A del trofeo Memorial Alessandro Bini, giunta alla sua nona edizione, scendono in campo Tor di Quinto e Città di Ciampino. Alle 15 il Ladispoli aveva già battuto nella gara precedente i padroni di casa del San Lorenzo e le due compagini che faranno parte della categoria Elite sono costrette quindi a vincere a loro volta per non staccarsi dalla capolista. Entrambe le formazioni però soffrono fin dai primi minuti di grande caldo che attanaglia la città di Roma e lo stadio del Cinecittà 2 non trovando grandi sbocchi se non al diciannovese con questa conclusione del numero 8 del Tor di Quinto Francolini respinta da Maddalena e poi incredibilmente Verciari non trova il tapin vincente. Il Città di Ciampino risponde con il numero 10 Aspri, bravo a liberarsi di tutta la difesa bianco-blu ma poco preciso col suo sinistro in diagonale. Nel secondo tempo poi ne è entrato Dari, lancia in mezzo per Granato che incredibilmente manca allo stop. Pochissime emozioni in questa partita tanto che già andiamo nel recupero della ripresa dove lo stesso Granato sfiora il vantaggio ma il tiro viene deviato da Brescia. Nel recupero poi ecco l'occasione che non ti aspetti. Liberatore scatta benissimo sul filo del fuorigioco ma Maddalena è straordinario in uscita e colpetto evita il gol al Neon Trato. La gara finisce così senza altri sussulti. 0-0 piuttosto noioso ci si aspettava sicuramente di meglio tra queste due compagini anche se va detto che il grande caldo è influito. 0-0 piuttosto noioso ci si aspettava sicuramente di più 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 di più.